buongiorno amiche buongiorno amici di gram interviste tre gram minuti quest'oggi un ospite che non so se tutti voi conoscerete ma adesso avrete modo sicuramente di conoscerlo roberto loforte di fuori rosa tv con il suo canale youtube anche collega del sottoscritto per quanto riguarda j tactics perché noi andiamo in onda anche anzi qui vi invito a seguirci il giovedì alle ore 22 con j tactics dove si parla solo di juventus ci si diverte con un podcast di assoluta qualità e roberto è anche appunto collega perché ha la sua rubrica j world dove parla di giovanili calcio femminile e quindi benvenuto roberto grazie di aver accettato il mio invito per parlare appunto di quelli che saranno i talenti del futuro bianconero ciao roberto ciao luca grazie grazie per l'invito e ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo è sempre un piacere grazie allora guarda partiamo subito in pompa magna ti chiedo juventus parliamo con la juventus under 19 la juventus primavera ci sono tre giocatori che io così ho individuato la faccio permessa la presenza di roberto ha un fine molto mirato molti di voi mi hanno chiesto di parlare di quelli che saranno i futuri campioni possibili futuri campioni bianconeri siccome io non ho nessun motivo di nascondere il fatto che non sia un grande esperto di juventus under 19 juventus under 23 lui invece lo è ho avuto appunto il piacere di portarvelo qui sul mio canale perché possa illustrarci le caratteristiche di questi futuri campioni partendo dalla juventus under 19 ti chiedo subito barra necea classe 2001 se non sbaglio che tipo di giocatore è ma è un centrocampista la juve l'ha preso dal new and soul boys viene fuori da lì dalla grande cantera della new and soul boys squadra storica argentina dove sono venuti fuori anche messi dove ci ha giocato maradona insomma hanno un settore giovanile veramente importante e barra necea viene viene da lì è un centrocampista diciamo che è detto i tempi nella primavera ma ha anche altre qualità ha già segnato gli ultimi due gol della under 19 è vero su rigore però comunque è un giocatore che veramente aiuta tantissimo a dare i tempi al centrocampo è molto alto per essere un giocatore che è detto i tempi e di solito i giocatori diciamo alla Arthur alla Pirlo sono più più bassi e più più bari centro basso invece lui invece è molto alto e molto forte anche fisicamente questo lo aiuta anche a recuperare i palloni molto interessante come giocatore e secondo me può venire fuori bene è in una zona proprio nevralgica del campo quindi quando i giocatori di centrocampo ci mettono un pochino di più ad ambientarsi al calcio dei grandi perché ci vuole più tempo e quindi però credo che possa tranquillamente venire fuori perché secondo me è un ottimo talento senti c'è un altro giocatore che fa ben parlare di sé me lo hanno deciso come un ottimo giocatore già tra virgolette fuori categoria io però non lo conosco e quindi chiedo a te di Sule che cosa mi puoi dire è su lei invece anche lui argentino ma è il classico argentino cioè è il classico giocatore di talento mi ricorda come movenza chiaramente con le dovute proporzioni a me ricorda molto 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 le movenze di di Maria come tipo di giocatore perché ha quelle finte quel tipo di 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 giocate molto giovane molto giovane perché 17 anni la juve primavera ha incorporato praticamente l'under 17 col fatto che il campionato under 17 sia fermo è inutile lasciare i giocatori fermi è meglio portarli con la squadra più grande e fargli fare esperienza è un giocatore importante perché salta all'uomo e soprattutto la primavera che sicuramente la citeremo ci trai qualcuno dei dei difessori perché abbiamo un'ottima difesa e quindi quando hai un'ottima difesa hai bisogno di giocatori che portano avanti il pallone in velocità e Sule è uno di questi quindi è un giocatore molto 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 talentuoso classe 2003 come classe 2003 è appunto Turricchia Turricchia te lo cito perché ho avuto modo di vederlo qualche volta quando vestiva la casacca bianconera del Cesena e ti chiedo ad oggi Turricchia che tipo di giocatore gioca con i fuori età perché lui è più piccolo è un classe 2003 come diceva appunto per Sule che tipo di giocatore è molto interessante anche lui ma io credo che la linea difensiva della Juve con Turricchia Riccio De Winter e Leo sia una linea difensiva molto importante ma anche la panchina della Juve under 19 per quanto riguarda la fase difensiva è molto 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 forte credo che ci sia anche tanta qualità nei subentrati però Turricchia è molto molto interessante esterno destro giusto esterno destro ma in realtà gioca ovunque cioè gioca sia a destra che a sinistra è molto adattabile molto ecco la qualità una delle qualità di Turricchia posso dire che è proprio questa sua d'utilità hanno provato anche a farlo giocare esterno più alto terzino basso terzino cioè esterno basso sia a destra che a sinistra è un giocatore molto 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 interessante e come hai detto tu viene dal Cesena quindi è un giocatore molto molto importante ma credo che la linea difensiva della Juve under 19 sia una linea difensiva molto interessante in tutto per tutto e non è un caso che insomma è ripartito il campionato primavera tre partite un gol solo preso ad Ascoli per un'ingenuità per un per un come posso dire un errore base non ma la difesa è sempre piazzata bene e difficilmente crei problemi a questa squadra perfetto se non ci sono elementi particolari su cui tu investiresti oltre a quelli appena citati passerei alla Juventus under 23 che è quella che si avvicina parlare di sé un po' per la bellissima prova della Juventus in Coppa Italia contro la SPAL che ha messo in luce altri gioielli un po' perché la Juventus ha abbracciato un progetto che pare davvero interessante avanti anni luce rispetto a tutte quante le altre società con appunto giocatori da far giocare già in Lega Pro con la Juventus under 23 e poi da renderli pronti per la prima squadra e quindi comincio subito e ti chiedo classe 1999 di Pardo lo abbiamo visto ma che che giocatore che giocatore è di Pardo è un esterno un esterno che sta bene nel gioco di Pirlo perché è un esterno più 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 esterno che terzino quindi diciamo che secondo me non ha patito tanto il debutto in prima squadra proprio perché è quello che fa cioè il ruolo che fa lui è più o meno è quello è un giocatore che ha esperienza che è nella Juve da anni quindi ha giocato in quasi tutte le categorie quindi molto molto interessante è un giocatore interessante diciamo che comincia come detto te 99 quindi comincia cioè è già avanti rispetto a molti suoi compagni di squadra e di giocatori che hanno già esordito con la prima squadra però è interessante secondo me nelle turnazioni Pirlo lo userà ancora perché comunque è usato sicuro per quanto riguarda l'Under 23. Poi abbiamo un giocatore che sicuramente ha già dato è stato grande impressione che è Radu Dragushin lui è un classe 2002 ma sembra già fisicamente molto pronto per la Serie A. Ecco su di lui ti posso dire ti posso dire che è un giocatore che io seguo assiduamente da quando è arrivato alla Juve a me aveva impressionato perché io l'ho visto le prime volte alla Future Cup il torneo che organizza l'Ajax ad Amsterdam e lui era lì con l'Under 17 a me impressionò parecchio perché contro una squadra più esperte tipo l'Ajax appunto vedevi una capacità enorme di difendere di gestire la difesa giocatore che poi alla fine quella coppa noi l'abbiamo anche vinta e l'anno dopo pensavo potesse patire un po' il salto di categoria dall'Under 17 alla primavera ricordiamo che lui ancora adesso potrebbe giocare nell'Under 17 e invece lì ho capito ho capito che poteva diventare un fenomeno e secondo me sono ancora convinto che sia uno dei giocatori più possibili cioè esploat per la Juventus prima squadra la conferma l'ho avuta quando ho giocato la partita di Youth League a Madrid contro l'Atletico dove fece una partita dietro pazzesca ed era la sua seconda presenza in primavera io ho capito che un giocatore si adatta in fretta lui è un più un centrale che non un esterno destro basso vero? infatti secondo me un po' lui con la spal era un po' all'inizio un pesce un po' fuor d'acqua perché lui è proprio il classico centrale di difesa e Pirlo l'ha messo nel ruolo che gioca di solito Danilo quindi è un gioco un ruolo più centrale terzino mettiamola così quindi all'inizio ha patito un pochino perché non è proprio il suo ruolo chiave lui è proprio un centrale di difesa e secondo me è molto forte classe 2000 Wesley l'abbiamo visto all'esordio fare una prima parte di match molto positiva un giocatore che pare avere gamba pare avere le idee ben chiare su ciò che vuol fare in campo poi sappiamo tutti c'è stata quella situazione nella quale Buffon si è un po' adirato e probabilmente il rimbrotto di Buffon ha inciso sul suo prosieguo nel corso del match però insomma anche lui classe 2000 Pirlo lo ha già lanciato nel calcio dei grandi cosa mi dici di Wesley? Wesley è quello che hai visto finora quello che hai visto con la spal è Wesley cioè con la spal scusa con abbiamo giocato con Genoa è Wesley con Genoa sì giocatore molto propositivo fa molto bene ma dietro fa degli errori ancora molto gravi i due gol col Genoa sono quasi tutte e due suoi ti posso dire che io l'anno scorso l'ho seguito tanto ed era la stessa cosa non era in serie C non era diverso da quello che abbiamo visto è un giocatore che infatti pian piano stanno provando a metterlo avanti proprio perché è lui è veramente sfraccello quando spinge è uno sfraccello non lo tieni perché quando vai in velocità non lo tieni però dietro lascia troppo e quando lasci troppo anche ad esempio in finale di Coppa Italia con la Ternana nell'anno scorso Coppa Italia Serie C ha fatto un paio di errori che ci hanno creato dei problemi non indifferenti è chiaro che è un giocatore molto interessante però secondo me lo stanno plasmando bene giustamente sull'avanzato perché dietro concede veramente troppo. Veniamo invece a un classio 2001 che ha già lasciato una grande impronta di sé per personalità capacità tecniche atletiche che me lo descrivono come un grande prospetto deve sicuramente fortificarsi a livello mentale cioè nel momento in cui tutto gira bene si esalta nel momento in cui ci sono difficoltà si perde. Parlo di Nicola Fagioli. Hai centrato il hai centrato un po' il discorso di Fagioli. Fagioli ha impressionato subito subito appena arrivato a Torino ha subito impressionato tutti gli adetti dei lavori. C'era bisogno di qualcuno come Pirlo che avesse anche il coraggio di lanciarlo in prima squadra. Lui si allena con la prima squadra non da quest'anno ma da già due anni che si allena con la prima squadra però ho l'impressione che Pirlo abbia il coraggio che ad altri allenatori mancava di lanciare i propri giovani. Chiaro che il problema di Fagioli torniamo al solito discorso è che gioca a centrocampo. Il centrocampo è il ruolo fondamentale per il calcio. L'errore di un centrocampista se il centrocampista non gira non gira la squadra quindi quello un po' l'ha rallentato perché Fagioli è due anni che si parla di farlo esordire in prima squadra. Peraltro di lui ne parlava molto bene Allegri già tre anni fa insomma. Pensate che quando Allegri ne parlava Fagioli giocava trequartista. Lì poi c'è stato meriti enormi di Zauli che l'ha portato da centrocampista da trequartista a centrocampista perché ha capito che lui aveva una visione di gioco molto maggiore in quella zona di campo ed ha fatto il terno all'otto perché è un giocatore che è cresciuto tantissimo. Io credo di avergli visto fare la sua miglior partita proprio a livello di palloni giocati e tutto in finale di Coppa Italia Serie 5 la ternana lì è stato impressionante. Tant'è che visto che la Juve aveva la prima squadra Pjanic che non stava bene eccetera 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 io dissi allora io dopo questa partita in Serie A Fagioli lo faccio giocare lo provo poi vediamo come va perché è veramente un giocatore molto molto forte Pirlo l'ha capito e l'ha fatto esordire lo vedi che ha quella personalità che altri non hanno perché fa delle giocate rischiando anche di sbagliare ma fa delle giocate sul lungo che ha un ragazzino come lui un ragazzo giovane come lui di solito non fa preferisce la scucchiaiata la scucchiaiata che ha sfoderato proprio contro la Spal nel secondo tempo è effettivamente una grande giocata speriamo che Pirlo abbia continuo ad avere il coraggio di insistere su questi ragazzi che stanno promettendo bene ti chiedo invece Peters classe 1999 se non sbaglio io personalmente non lo conosco che tipo di giocatore è è difficile però se devo inquadrarlo è più vicino a un matuidi c'è uno che recupera tanti palloni si propone meno ma va a recuperare tanti palloni un giocatore di sostanza tanta sostanza serve anche quello perché nel calcio sappiamo benissimo quanto sia importante avere il pallino del gioco e per avere il pallino di gioco il pallino lo devi recuperare Peters è uno così uno che recupera tanti palloni nazionale belga molto interessante credo che abbia credo che sia il primo belga ad aver giocato con la prima squadra della Juve perché ha fatto esordito l'anno scorso nel finale di campionato e è un giocatore come ripeto ripeto è quel classico è proprio nei videogiochi si chiama mediano cioè proprio quello che recupera una marea di palloni cioè va a prenderti tutti quindi un giocatore più di quantità che non di qualità tanta sostanza e meno qualità ha una buona qualità ma secondo me la sua qualità maggiore proprio la quantità la quantità veniamo invece a una classe 2001 filippo ranocchia di cui sento parlare un gran bene ma che io personalmente non conosco che giocatore è filippo ranocchia io sono innamorato lo dico qua di filippo ranocchia quest'anno gli ho visto fare una crescita pazzesca detta ai tempi della stella under 23 quando giocano insieme fagioli ranocchia gli avversari non sanno non a volte se girano tutte e due bene non capiscono niente perché hanno due giocatori che dettano i tempi in maniera perfetta ranocchia secondo me è eccezionale anche segnato sta anche segnando quindi è un giocatore che la butta anche dentro il pallone è un giocatore molto molto importante è il classico giocatore che ha detto i tempi del centrocampo ed è un ottimo un ottimo un ottimo un ottimo giocatore un ottimo centrocampista infatti piero l'ha portato in supercoppa ma sono sempre dell'idea che sarà uno dei giocatori che tra poco potrà anche debuttare con con la prima squadra veniamo invece a un gioiellino che io ho visto giocare a piccoli a piccoli sprazi in qualche highlights si chiama felix correia se non sbaglio anche lui un classe 2001 molto promettente colpi già veramente fuori categoria per quella che è l'under 23 che cosa mi dici felix correia sicuramente non è un giocatore da serie c ma deve deve fortificarsi ovviamente e non solo non solo fisicamente ma anche mentalmente giocatore molto 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 longilineo il problema di felix correia è un po' la continuità fa delle giocate spaventose poi magari si spegne poi si riaccende e secondo me la juve non lo fa debuttare proprio per questo motivo vuole dargli continuità e per avere continuità uno come lui deve giocare è un giocatore molto molto interessante veramente è forse quello che come talento naturale è il più forte che abbiamo cioè ha dei numeri che nessuno nessuno ha ce ne ha secondo me un altro giocatore che non abbiamo citato ma dopo te lo cito dopo e lui è velocissimo non lo prendi non lo prendi e zauli lo sta lo sta gestendo benissimo lo sta facendo crescere tantissimo e credo che felix correia anche lui sarà destinato comunque a giocare coi grandi e uno di quelli che che se che pirlo potrebbe usarlo e arrivo a dire visto che l'anno scorso noi avevamo Douglas Costa che al grande degli infortuni erano giocatori importanti nelle partite in corsa perché spaccava in due la partita credo che correia sia potrebbe essere messo possa essere quel giocatore lì ti chiedo adesso invece di amza rafia che ha già avuto modo di segnare con i grandi poi si è infortunato purtroppo per lui anzi in bocca al lupo per un pronto rientro che giocatore è un una punta è più un centrocampista allora lui è arrivato lui è arrivato come seconda punta massimo esterno alto e lì zauli che secondo me fa un lavoro egregio coi giovani ma lì anche pecchia perché anche pecchia lì l'hanno cominciato a mettere il trequartista e hanno scoperto che lui è il perfetto giocatore per la serie c c'è per l'under 23 che porta la palla dal centrocampo all'area di rigore è il classico giocatore che unisce i due reparti giocatore molto importante e vabbè assegnato con col geno al gol decisivo poi alla fine per il passaggio del turno è un giocatore che già nazionale tunisino tra l'altro curiosità è nato nello stesso paese dove è nato mio papà quindi quindi insomma ci sta curiosità che va detta si mancherebbe no è giocatore secondo me ancora cerbo nel senso che ha un potenziale enorme ma ancora non è riuscito a esplodere del tutto se riesce a esplodere diventa un giocatore fortissimo perché poi lui a differenza di Correa fisicamente già ben messo cioè uno di quelli che la categoria non la potrebbe non soffrirla più di tanto ricordo anche che lui viene da lione quindi comunque viene da un'altra squadra professionistica e questo non è poco arrivare da squadre già forti e comunque già nazionale quindi comunque hai già giochi già con i grandi ecco perfetto siamo quasi ai venti minuti quindi andiamo a concludere però ancora un paio di nomi da chiederti uno è da gracca che anche lui classe 2002 ha esordito contro la spalla che giocatore è da gracca è un attaccante classico attaccante e tanto è l'unico giocatore quest'anno che ha giocato con le tre con le tre formazioni quindi under 19 under 23 prima squadra è classico è il classico attaccante che magari ti sbaglia il gol facile poi ti fa quello difficile poi ti butta dentro il pallone sporco poi magari ti sbaglia un gol incredibile è il classico numero 9 cioè non credo che ci sia un'altra mi a me ricordo un po come movenze il primo morata però il tipo di giocatore è quello proprio classico attaccante e poi abbiamo un altro classico attaccante armadio giacomo vrioni che se non sbaglio è i box per una frattura eh al perone è subita eh sul finire dell'anno 2020 e che giocatore è giacomo vrioni è anche lui è un attaccante è più esperto di da gracca perché giugia anche anche vrioni gioca già classe 1998 peraltro vrioni è forse appunto sì ma poi gioca già in nazionale lui ha scelto la nazionale albanese poteva scegliere italiano albanese per i genitori che sono di origini appunto albanesi e lui ha scelto l'albania ma quindi è già giocato anche in nazionale è un giocatore che l'anno scorso ha battuto un record singolare l'unico giocatore che ha giocato in c in b e in a nello stesso anno perché lui la juve lo prese l'anno scorso nel cittadella poi l'ha fatto giocare con l'under 23 con la quale ha vinto la coppa italia serie c e poi esordendo con la juve prima squadra si è laureato campione d'italia e ed è stato l'unico giocatore ad aver giocato nelle tre categorie in un anno solo quindi ha battuto questo record è un giocatore sicuramente più esperto degli altri ecco perché comunque come detto tu non è il venti non è il diciassettenne cioè è giovane ma non giovane come gli altri è giovane ma con già una una certa esperienza e queste sono chicche che appunto solo grazie a te roberto ho potuto apprendere mi auguro anche chi segue il mio canale abbia apprezzato perché ci sono queste informazioni da da gracca che ha giocato in tutte e tre le formazioni avrioni che ha giocato in tutte e tre le serie io non conoscevo e quindi è interessante siamo in chiusura lascio a te la possibilità di descrivere quel giocatore di cui io non ti ho chiesto ma che mi dicevi te lo dico dopo sì sono se sono due giocatori nell'under 19 uno che secondo me verrà presto buttato in mezzo da pirlo l'altro invece che adesso è infortunato ma per me è il più forte giocatore che abbiamo nel settore giovanile il più forte giocatore che abbiamo secondo me nel settore giovanile è anche il chivozo che ha fatto una caterva di reti nell'under 17 a 17 anni ha esordito con la primavera ha segnato poi si è spaccato perché si è fatto nazionalità 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 in questo momento italiano ma lui credo che sia del benin se non ricordo male ma molto molto forte è un giocatore che secondo me se mantiene quello che sta facendo ripetimi il suo nome ripetimi il suo nome angel chi bozzo scritto c h i bozzo l'altro allora mi raccomando seguiamo questo angel chi bozzo e l'altro è l'altro è leonardo cerri che secondo me verrà buttato in mischia da pirlo molto presto perché è un giocatore che ha aggiornito già nell'under 23 a 17 anni ha segnato con l'under 23 perché dico che secondo me giocherà con pirlo perché pirlo cerca un attaccante forte fisicamente da buttare dentro e leonardo cerri a 17 anni è alto un metro e novantanove e pesa 95 kg quindi è un giocatore possentissimo un armadio è un attaccante che la porta la vede e credo che pirlo ci faccia il pensiero roberto è stato fantastico poter così conoscere meglio questi giovani futuri speriamo gioielli di casa bianconera grazie a te per aver accettato il mio invito e per aver reso questo servizio che spero chi ci ha seguito chi mi seguirà chi ci seguirà possa aver apprezzato lasciate qui sotto i commenti sarà un piacere condividerli come sempre iscrivetevi anche al canale youtube fuori rosa tv di roberto io roberto ti saluto ti ringrazio nuovamente e niente magari più avanti faremo un punto della situazione volentieri perché credo che la juve abbia intrapreso una strada interessante e questa deve essere una strada interessante anche con te sì certo ma volentieri la juve ha intrapreso questa strada interessante secondo me sta facendo il terno all'otto per quanto riguarda anche il futuro ci sono già tanti giocatori che vogliono venire alla juve under 23 visto che c'è pirlo che li fa esordire e rinunciano a squadre di b per venire all'under 23 vuol dire che la juve ci ha visto lungo e sta facendo veramente un gran bel lavoro quindi quando sarà io sono sempre contento di poter parlare di juventus giovanile ed io sono contento che tu abbia accettato questo invito e abbia potuto spiegare a chi mi segue a chi mi aveva chiesto informazioni sulla juve under 23 abbiamo offerto anche informazioni sulla juventus under 19 quindi davvero grazie grazie mille e grazie a tutti coloro che sono stati in questi 24 25 minuti insieme a noi un saluto vi do appuntamento a un prossimo tre gran minuti ciao roberto e ciao a tutti ciao a tutti